...condizione e clima, questo è Mauro Santoni che oggi non a caso ci presenta la sua opera Vai Sara, che è assemblato nel carso di corsa, là il treno sintetico non c'è, ci spieghi un po' quest'opera fatta assieme a... Fabio Fabris, autore di guide di mountain bike e anche escursionistiche diciamo correre, io ho scritto della corsa che è un po' diverso, so che qualcosa comunque ho masticato dei sentieri, diciamo che... Oltre di calcio voglio ripetere... Oltre di calcio, ma sono altre vite ormai, cambiamo e il libro è un libro che parla del 3 running, parola che fa paura invece a correre nella natura, a correre nel carso a correre nei sentieri, racconta un po' quello che è successo a Trieste negli ultimi 50 anni da un punto di vista sportivo, diciamo sempre della corsa in carso e raccontando le gare le prove che una volta non c'erano ancora le gare, non potevano fare le gare ufficiali e da lì siamo partiti a raccontare 12 itinerari, 12 che possono essere raccolti anche nell'ambito di un anno perciò degli itinerari mensili, a cavallo del confine, dopo la caduta dei confini pertanto anche interessante nuove zone che molti forse non conoscono e ci sono le mappe, le altimetrie, le distanze, si corre in sicurezza tutti questi sentieri hanno ulteriori sviluppi in quanto sono ad anello si parte e si arriva nello stesso punto e ci sono molte varianti e poi finisce con il padre di tutti i sentieri, non solo triestini il sentiero 3 è un sentiero che parte da Pese e arriva a Iamiano, sono 53 chilometri di varie parti c'è raccontato il libro Mauro? si, non vorrei che andate a prenderlo oppure dovremmo scoprire un po', lasciaci un po' di mistero guarda il mistero è che ogni sentiero, ogni itinerario ha un testimonia il testimonia si chiamano Michele Gamba, Claudio Sterpini, Valentina Tauceri penso che sia sufficiente Carso di corsa quindi con Mauro Santoni e a cura di Mauro Santoni Fabio Fabris c'è un'altra atleta, grazie, c'è un'altra atleta Tristina che va di corsa in un certo modo, non solo i del me